Spegne quest'anno le 36 candeline la fiera agroalimentare più longeva ad Abruzzo. Stiamo parlando di Mediterranea che si svolgerà dal 22 al 24 luglio presso il porto turistico marina di Pescara. Tra gli eventi di rilievo la cena con Tresi e Boikbodin, vincitrice dell'ultimo Masterchef e l'omaggio al maestro del formaggio Gregorio Rotolo, recentemente scomparso. Noi abbiamo qui in Abruzzo nel nostro territorio un microclima che consente di avere dei vini e degli oli di altissima qualità che negli ultimi anni ha sicuramente riscosso interesse internazionale e questo ci fa piacere perché solo 30 anni fa nel nostro territorio non c'era conoscenza di questa qualità di prodotti. A caratterizzare la 36esima edizione di Mediterranea sarà la presentazione delle più suggestive destinazioni turistiche abruzzesi. Infatti tra i 45 stand dedicati alle tipicità sarà possibile fare tappa agli spazi informativi dedicati alla transumanza, all'Art Bike Run & Wine, ai borghi antipasto dell'evento che si svolgerà a settembre con i borghi più belli d'Italia. Le novità però non finiscono qui, nell'Isola dei Saperi e dei Sapori, spazio esterno al Palabecci, Slow Food e Gall parleranno dei prodotti tipici della nostra terra, tra cui l'olio Evo, protagonista e indiscusso della fiera. Nell'area espositiva ci sarà un ampio spazio dedicato quindi alle produzioni tipiche dell'agroalimentare, ci sarà uno spazio street food con cibi rigorosamente abruzzesi e ci sarà anche un'area dedicata proprio alle eccellenze turistiche del territorio.